musica 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 come? il bezzo si va bene rispetto a questo ahi non ci sta il gravide il corpo ha chiuso dentro è amare che non si sia andato a questo occhio altre volte per molto meno pure per delle bomme bruciate arrivavano a motor un barbecchio bruciato non penso pure per delle case che stanno sembrano vicine questa cosa è davanti si deve andare a più con i piani superiore a vedere questo è un fumo proprio male questo è quel capanone e roba al cinese che sta bruciando questo è tutto materiale plastica non è bai ma io si in non 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 mi risponderò nessuno e quindi mi sono preoccupata per questo. Comunque i messaggi li ho accorto. Ma sai che puzza che si sentono? Esatto, non si lascia. Secondo me non riesco a uscire. Non scendia. E tu fammi sentire. Spaventose incendio del cuore di Napoli bruciò nei rifiuti. Discaricare il sito del napoletano può essere. Andiamo ai piani superiore, vediamo se si vede meglio. Perché nei piani superiore credo che la torre all'entituessimo piano sia più alta di questo palazzo di fronte. Quindi si dovrebbe vedere da sopra, o no? Grazie. Grazie.